Buongiorno a tutti, oggi è sabato 16 luglio, sono le 11.53 e iniziamo con le analisi del weekend. Analisi che partono con quella dell'S&P 500 e che ci raccontano cosa ci possono dire i cicli superiori dell'analisi evoluta. Innanzitutto vi vorrei fare notare una cosa, una struttura. La struttura di questo annuale è stata questa. Primo, 96 giorni, uguale semestrale molto vicino alla durata di un trimestrale. Secondo, tp4 semestrale arrivato a 98 bar, anche questo molto vicino alla durata minima di un semestrale. È aggiunta di che cosa? È aggiunta di un trimestrale, lungo, che si avvicina appunto al terzo tp4, terzo semestrale. Qui abbiamo avuto la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del annuale, del secondo annuale di un biennale che è iniziato a marzo 2020, con quella che è stata definita la discesa data dal Covid, ma fa sorridere come cosa, perché è un pluriennale che chiude con un raccordo di grado tp5, un tp8 che chiude con un tp5 e poi ripartenza di nuovo pluriennale. Noi siamo su un nuovo pluriennale che deve ancora decidere che cosa voglia di fare, perché ha spinto moltissimo nella prima parte. Se noi andiamo a chiudere il grafico, eccolo qua, vedete che da marzo appunto 2020 ha avuto una pendenza talmente stratosferica a rialzo rispetto alla precedente, questa curva sembra quasi piatta a confronto rispetto a questa, che chiusosi con un raccordo di grado tp5 e il pluriennale precedente, da qui è partito non soltanto ormai un tp5 e tp6, come avevo segnato tanto tempo fa, guardate mi ero fermato a 362 giorni, adesso quanti siamo? Siamo a orientativamente 579, era giusto per darvi un'idea di quando era stata messa questa nomenclatura. Adesso sappiamo che con un biennale rialzista, ovvero un tp6 per ora rialzista, noi lanciamo serenamente un nuovo tp8, quindi tp8 che chiude qui, raccordo tra due tp8 esattamente di tre gradi inferiori rispetto al tp8, quindi nessun covid, ok? Non ci raccontiamo stupidaggini perché poi da qui siamo rimbalzati ancora più forte dopo il covid, con il covid ancora in essere, quindi bubole per chi si racconta, per chi deve riempire i giornali per carità, ok? E, forte salita, noi però sappiamo se questo nuovo tp8 sarà rialzista o ribassista o neutro, perché il precedente è stato ovviamente rialzista, perché se torniamo indietro fino al 2009, ok? 2009, caspita se è stato rialzista, siamo partiti da qua, ok? Da quella che è stata, casualmente, la crisi dei mutui subprime. Qui sembrava che fosse venuto giù il mondo. Se guardiamo il grafico e lo confrontiamo a quello che è successo col covid, e se, come detto, guardiamo poi la pendenza che ha avuto il nuovo pluriennale quando è partito, e quando alcuni dicevano no, adesso si inizia a scendere, c'erano gli reclam dello tsunami finanziario in arrivo, ok? Chi ha fatto quel corso dello tsunami finanziario? C'erano costantemente questi spot. Dove è finito? Perché qui non c'è stato nessuno tsunami, siamo andati su dritti come fusi, esattamente come dicevo, quando affermavo appunto che, chiuso un pluriennale, è fatto l'unica cosa che si poteva fare di anomalo un raccordo, e poi si poteva soltanto salire. Perché anche se questo pluriennale sarà ribassista, spinge lo stesso nella prima parte al massimo. Ed è adesso che noi dobbiamo capire che cosa andremo a fare. Perché, nel caso fosse rialzista, tra un po', chiuso il primo biennale, torneremmo tranquillamente a fare le nostre cose, e quindi a risalire. Ma se questo si rivelasse essere piano piano un ciclo neutro-ribassista, sapete qual è il rischio? Ci avete pensato? Pluriennale e rialzista. Raccordo. Partenza di nuovo pluriennale? E se non è rialzista? Perché un pluriennale, un T più 8, dura minimo, dunque se è un annuale, un T più 5 dura un anno. Minimo. Meno di un anno. 200 giorni facciamo. Un biennale ne dura 400, ed è un T più 6. Un T più 7 ne dura 800 di giorni. 1.600 giorni. 1.600 giorni non sono pochi. Ok? Tra l'altro di borsa aperta, non so se state iniziando a comprendere, vi do il tempo per comprendere. minimo 1.600 giorni in cui non si raggiungono più massimi, ma si inizia a provare a fare rimbalzi del gatto morto. Questa è la peggiore delle ipotesi. Noi non sappiamo ancora se ci troveremo in quella, ma avremo una chiara idea di che cosa succederà quando partirà il nostro nuovo annuale. Qui è già partito un nuovo annuale con soltanto 19 barre sopra un minimo. Sappiamo che al massimo è partito un T più 1, sì, un trimestrale. Abbiamo violato qualche swing particolare? Possibile. Ma quello di un annuale no. Sappiamo, peraltro, che tra un annuale e un annuale può esserci un raccordo di grado T più 2 mensile. tra un biennale e un biennale, uno di grado T più 3 trimestrale. Quindi attenzione a cantare vittoria qui, eh. Non sappiamo se avremo, appunto, come dico anche da tempo su Bitcoin, una ripartenza V, quindi si spara in su rapidamente, non si scende più, da far partire un nuovo annuale o un nuovo biennale, figuriamoci, uno swing ancora più alto sarebbe, oppure se chiuso l'annuale avremo una ripartenza VW, quindi dopo un raccordo, dopo una discesa che andrà sotto o in zona a questo livello e solo dopo avremo la salita più forte. comprendete meglio il disegno? E ripartito un nuovo annuale o un nuovo biennale, se non torneremo sopra questi massimi assoluti di SPX a 4818 punti è il rischio che non sia rialzista questo nuovo biennale, che sia che sia neutro, magari. E neutro non è tanto piacevole, perché sapete anche dagli appunti che cosa significa ciclo neutro? È una cosa che parte da un minimo, va a un massimo, chiude, fa un altro massimo in centro e poi torna a scendere. E il tempo lo conoscete. un annuale in media dura un anno, un biennale due anni, un T più 6, un T più 7 quattro anni, un T più 8 otto anni e ne abbiamo visti solo due, quindi sei anni di tra virgolette lateralità spalmata o discesa non sono al massimo. Ripadisco, questo sarebbe il peggiore degli scenari, il migliore è che si ritorni sopra questo massimo. È semplice identificare se avremo un pluriennale rialzista o ribassista. Estremamente semplice. Certo, siamo scesi di un po' di punti adesso, dai 4.800 siamo piombati ai 3.200 12, 24, 36, 48, abbiamo perso un 25% di capitalizzazione. non è poco. Però, è in linea con altre discese che ci sono state e se andate a vedere appunto quelle che vi ho nominato, questo è il discorso. Ritornando al brevissimo, quindi che cosa faremo? Uno, andremo a vedere se supereremo questi massimi. perché se non iniziamo a superare soprattutto questo a 3.945 e già questo ciclo non sarà rialzista ma rischia di essere neutro o ribassista. Di inverso, qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un mensile ma potrebbe continuare, potremmo ancora continuare ad andare su perché fino a 43 bar e si arriva a quando? Si arriva al 4 di agosto periodo che come detto non è il massimo per fare trading. Il tempo ce n'è e l'impatto con la media mobile l'eventuale impatto con la media mobile ci dirà tante cose. Nell'ancora più breve qui si è chiuso un bisettimanale su questo minimo può partire un nuovo bisettimanale quindi un po' di spinta ci può essere l'impatto ci interessa sia con la media mobile che con l'accumo sappiamo che se si perfora l'accumo e se si rimane con una chiusura almeno dentro l'accumo ci sono buone possibilità di spinta vediamo anche quello anche perché siamo a un mensile che comunque è già arrivato a 19 barre su minimo 24 quindi se volesse andare a ripiegare a fare un 3 tempi e fare 24 barre al 22 sette avremo un minimo di nuovo tutto viene controllato con gli swing in questo caso quello a 3.918 e per andare nel particolare qui abbiamo che abbiamo avuto un secondo t settimanale ribassista non eccezionale per una spinta rialza per un annuale abbiamo un secondo che può aver trovato persino già la chiusura la condizione necessaria di chiusura questo t inverso anzi non ancora quasi facendo un top e se gli basteranno 6 giorni di salita 6 t-3 siamo al quinto t-3 e qui siamo a no questo è bitcoin 5 se volesse fare ancora una candela verde e farsi un 6 occhio che abbiamo la condizione non solo per la chiusura del settimanale ma anche del mensile e quindi cautela per le posizioni long soprattutto se non andiamo sopra questo massimo a 3.918 punti questo peraltro è un periodo non particolarmente eccezionale ribadisco per fare trading ok da adesso in avanti i volumi inizieranno ad essere sempre più bassi agosto sarà ancora peggio quindi attenzione massima come ho già detto ieri ho annunciato oltretutto alle persone su facebook ok è tempo di cambiamenti ho chiuso la precedente azienda dove vari soci mi hanno dato tante opportunità tanto importanti di crescita di sapere affrontare le problematiche adesso quella che era la pagina anzi il gruppo di financial armor si trasforma in evoluta trading non discrezionale esattamente come il gruppo premium si trasforma in evoluta gruppo premium non ci sarà più financial armor è chiusa finalmente come esperienza e mi consente di poter dare molto di più anche grazie alla collaborazione con Tocos SCF di Torino una società di consulenza finanziaria nata nel 2004 registrata allo CF e vigilata Consob direi che è abbastanza tutto per gli annunci vi ringrazio per il vostro tempo spero che le riflessioni fatte su Standard & Poor's vi diano tanti spunti di attenzione da lunedì in avanti in cui avremo una condizione necessaria e sufficiente probabilmente per chiudere un inverso andateci con i piedi di piombo ok i volumi diventano più piccoli fate molta attenzione vi ringrazio per il vostro tempo se il video vi è piaciuto mettete un bel like consigliate il canale alle persone che non vogliono più rimanere nel parco buoi e patire le notizie o le giustificazioni a discese e salite impreviste ma vogliono rendersi conto di davvero come si muovono i mercati buona giornata a tutti arrivederci ciao